Fermati. Spegni tutto. Adesso chiudi gli occhi. Guarda dentro di te. Osserva il mondo che hai creato. La tua famiglia. I tuoi amici. La vita che hai voluto. Hai amato. Hai lavorato. Hai studiato. Adesso è il momento di capire. Di pensare. La donna e l'uomo che sei diventato. Che hai voluto essere. Non guardare fuori. Non dare la colpa ad altri. Tutto quello che vedi lo hai permesso tu. Azioni, parole, pensieri. Sono espressione della tua anima. E credo che dobbiamo fare i conti con noi stessi. Ora. Hai la possibilità di cambiare. Sempre. Volere e potere non è una frase fatta che trovi dentro i cioccolatini. La volontà è il lavoro più difficile che tu possa esercitare. la volontà di essere libero. Libero di creare il tuo mondo. Se pensi di non saperlo fare è perché ti sei circondato di cose inutili che credevi indispensabili. La vita è l'esperienza più bella che la tua anima possa fare. Respira profondamente. Sarai perdente solo se tu ti sentirai perdente. Questa è l'occasione di cambiare. Di evolversi. Fallo. La terra è un posto bello. Hai il potere di farlo restare ancora meraviglioso. adesso apri gli occhi e guarda il mondo che vuoi trovare. Crealo.